Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Violante Placido, figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli, ha svelato un lato oscuro e poco noto della sua infanzia. L'immagine dell'attrice con il suo sorriso coinvolgente cela un passato doloroso. Nata a Roma nel 1976, a soli 11 anni Violante intraprese un'avventura transoceanica, trasferendosi a Los Angeles con la madre. Mentre molti avrebbero immaginato un'esistenza da favola nella terra americana, la realtà riservò alla giovane Placido una sfida ben diversa. Michele ricorda con profondo dispiacere che, pur appartenendo a una famiglia privilegiata grazie alla fama dei genitori, Violante divenne ben presto l'obiettivo di continui scherzi e umiliazioni da parte dei suoi coetanei, trattata con sarcasmo. Si ritrovò emarginata e presa di mira, con nessuno che volesse esserle amico, come condivide Michele Placido in una recente intervista. Narra di come alcuni compagni offrissero la loro amicizia solo in cambio di favori, come ad esempio svolgere i loro compiti. La giovane Placido era spesso isolata in uno dei periodi più bui della sua vita, secondo quanto ricorda il padre. Violante non desiderava più uscire né andare a scuola, incapace di comprendere il perché di così tante crudeltà. Queste rivelazioni ci mostrano come, al di là della fama e del successo, anche le stelle del cinema possano essere vulnerabili e debbano affrontare le stesse difficoltà che colpiscono molte persone. Anche oggi è arduo per Violante farsi carico del passato, poiché tali esperienze possono lasciare profonde cicatrici. Grazie per la visione e al prossimo video!